Per te che ami la natura e desideri vivere in un ambiente circondato dal verde, proponiamo una caratteristica casa rurale d'epoca in pietra, immersa nella tranquillità delle campagne pugliesi. Situata in contrada a Palombaro, questa dimora incantevole è ideale per chi sogna di avviare un'attività ricettiva o un agriturismo, offrendo un oasi di pace e bellezza. L'abitazione comprende un ingresso, un ampio soggiorno con camino, una cucina abitabile, una camera da letto e un bagno, creando uno spazio confortevole e funzionale. Uscendo dalla casa troverai un'ampia antica stalla e un deposito per un totale di 500 metri quadri che conservano il fascino autentico della tradizione rurale. Questa casa è circondata da un terreno di 10.000 metri quadri. Questa proprietà è un vero e proprio santuario naturale. Gli oliveti, gli alberi da frutto e gli imponenti alberi secolari non solo abbelliscono il paesaggio, ma creano un'atmosfera suggestiva e rilassante. Ogni giorno potrai goderti la pace e la serenità che solo la natura può offrire, passeggiando tra gli olivi o rilassandoti all'ombra degli alberi secolari. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria occasione di vivere in armonia con la natura in una casa da fascino unico. Contattaci subito per maggiori informazioni e per organizzare una visita. Vieni a scoprire il tuo rifugio naturale in Puglia. Ciao, alla prossima!